Lo sviluppo dell'economia e la ripresa dell'occupazione in Toscana sono gli obiettivi di due distinti protocolli firmati dalla Regione e da Union Camere in rappresentanza del sistema camerale toscano, in continuità con un altro accordo già sottoscritto per il rafforzamento del sistema e della formazione e dell'accesso al mondo del lavoro. Una delle due nuove intese punta a favorire interventi in materia di impresa digitale e industria 4.0, l'altra è invece incentrata sul sistema del turismo. Noi offriamo alle imprese un servizio strutturato, possiamo avvalerci della rete territoriale, delle Camere di Commercio nei vari popologhi, province, nei vari territori della Regione e possiamo non disperdere energie che sono generate dal sistema camerale e se non inquadrate e finalizzate in specifici ambiti e di indagini e attività rischierebbero di essere meno efficaci di quello che così in maniera sinergica riusciamo a costruire. Quindi crescere in digitale è sicuramente fondamentale per conoscere meglio anche i mercati, lo facciamo rivolgendosi alle piccole imprese come il sistema camerale per poi dare un taglio diverso insieme alla Regione toscana per chi ha esigenze naturalmente diverse. Le Camere di Commercio hanno aperto i PID, oltre 80 PID in tutto il territorio nazionale che anche le Camere di Commercio toscane lo hanno fatte. Per i comparti del turismo e delle imprese 4.0 le Camere di Commercio mettono a disposizione delle imprese 2 milioni di euro.